Buongiorno ragazzi, freschi freschi dell'incoronazione di Re Carlo III avvenuta lo scorso 6 maggio, oggi torniamo proprio in Inghilterra, più precisamente a Coventry nella Browns Lane di anni 50 per svolgere la perizia di una delle berline Jaguar più discusse di sempre, la Mark II 3.8 litri del 1959. Per comprendere questa berlina dobbiamo fare qualche passo indietro nell'Inghilterra dei primissimi anni 50. Fu in quest'epoca che la Jaguar, alla luce della recente crisi economica, decise di mettere in produzione un modello entry level, adatto anche alle persone meno abbienti o, come alcuni preferivano definirla, il gradino più basso per girare in Jaguar. Tra il 1955 e il 1957 nascono così le cosiddette 2.40 e 3.40, denominate successivamente Mark I, vetture all'insegna del concetto di Value for Money. La prima rappresentava la vera e propria entry level per il mondo Jaguar, spinta da un propulsore 2.4 litri 6 cilindri, talmente parco in prestazioni che non riuscì a vendere negli Stati Uniti dove la clientela era maggiormente esigente. La seconda si freggia di un motore 6 cilindri 3.4 litri che la fa diventare una buona vettura sportiva. Entrambe le vetture che rappresentano per Jaguar il primo passo verso la scocca portante non eccellono nella lussuosità degli interni, lasciando così una sensazione di ovattato benessere che non soddisfa i jaguaristi più esigenti. Fu proprio alla luce delle critiche sollevate a questa prima serie che la Jaguar rispose con la messa in produzione della cosiddetta Mark II. Caratterizzata dalle medesime linee delle vetture della serie precedente, questa volta le motorizzazioni comprendevano anche un 3.8 litri, mutuato dall'E-Type che poteva spingere questa vettura fino a 200 km orari. Con questa vettura avvenne proprio un passaggio netto nella reputazione di questa berlina. Da Jaguar entry level con le Mark I a sportiva ambita e di lusso con la Mark II 3.8 litri. Non c'è da stupirsi infatti che personalità di spicco come l'avvocato Gianni Agnelli e il principe Ranieri di Monaco ne erano possessori. Fatte le dovute premesse possiamo finalmente dedicarci all'esemplare di Perizia che fa parte del parco circolante italiano dai primi anni 90. Si presenta nella colorazione originale Old English White in abbinamento ad interni in pelle rossa e tappezzeria marrone. Svolgeremo l'aperizia di oggi assieme a un amico Gianluca Maxia, esperto in veicoli d'epoca e cofondatore di Autore Expertise che si è occupato in prima persona del sopralluogo e dell'analisi della vettura. E oggi abbiamo il piacere di ospitarlo in videochiamata. Buongiorno Gianluca e benvenuto. Ciao Giovanni, ciao a tutti, grazie dell'invito. Bene Gianluca, allora prima di iniziare a vedere insieme a te la Jaguar della Perizia di oggi vorrei introdurre il gruppo Autore Expertise perché immagino che molti degli amici in ascolto non conoscano questa nuova realtà. Quindi lascerei a te la parola per una breve descrizione e poi possiamo iniziare con la nostra Jaguar Mark 238 di oggi. Sì, dunque il gruppo Autore Expertise nasce come progetto che unisce un gruppo di professionisti esperti in veicoli d'epoca e si propone di offrire un servizio di valutazione oggettivo e non di parte dei veicoli d'epoca. In pratica questo servizio è rivolto a un largo spettro di clienti, dal collezionista, investitore, esperto che comunque ha bisogno magari di un aiuto mirato su certi aspetti o su certi dettagli fino a semplicemente chi magari ha ereditato un veicolo d'epoca e vuole sapere un po' di più in termini di valore o di ricerca storica di quello che è l'oggetto di cui è entrato in possesso. In dettaglio noi offriamo un servizio di consulenza a vari livelli che può partire da una semplice ricerca storica sul veicolo oppure a fare una perizia, una stima light come per esempio quella che vedremo oggi anche oppure arrivare fino a un book fotografico o un book video corredato con esami di laboratorio e altre analisi che rendono molto sofisticata la stima. Tutto diciamo al fine di aiutare i nostri clienti a conoscere fino in fondo e senza zone d'ombra il valore del loro veicolo. A corredo di questo offriamo anche un servizio di aiuto nella compravendita che ormai si è reso, abbiamo visto necessario, visto il sempre più complicarsi del mercato italiano e anche internazionale che attualmente vive un momento di particolare fermento. Ottimo, è certamente un approccio molto moderno e al passo con le necessità di mercato. Grazie della descrizione e direi che a questo punto puoi raccontarci tutti i dettagli di questa vettura di oggi. Allora, la Jaguar che abbiamo preso in esame oggi ha diverse caratteristiche che, per quello che è la mia esperienza e per quelle che sono le Jaguar MK2 che ho visto nella mia vita, rende questo esemplare particolare. Partiamo dagli aspetti quelli più canonici nella valutazione, ossia il numero di telaio che dai registri storici del marchio certifica che la vettura è stata realmente prodotta nel 1962 nel terzo o quarto dell'anno, quindi questo dato è sicuro. Il primo proprietario dovrebbe essere americano, degli Stati Uniti d'America, perché la vettura è stata venduta lì, però il dettaglio diciamo anagrafico non è ancora noto, perché l'attuale proprietario ha avviato delle ricerche ma ancora non hanno prodotto risultati. Quello che invece sappiamo in maniera certa è che negli ultimi 27 anni c'è stato un proprietario solo, l'attuale proprietario. L'altra cosa di cui si ha certezza, perché ci sono i documenti e le foto che lo dimostrano, è che verso la metà degli anni 90 è stato fatto un restauro approfondito che è durato diciamo tre anni, circa tre anni e mezzo e fu molto innovativo per l'epoca perché negli anni 90, metà anni 90, era ancora molto frequente che i restauri approfonditi riportassero il veicolo a nuovo, quindi venivano diciamo delle macchine realizzate e restaurate come uscite di fabbrica, a volte anche meglio, con vernici più lucide, con cromature più intense, in pelle di colori un po' troppo brillanti diciamo rispetto a quello che era negli anni 60 la possibilità. Qui invece è stato deciso di fare un restauro che oggi definiremo conservativo, quindi hanno smontato tutti i componenti e visto che la vettura era completa hanno cercato di ripristinare piuttosto che sostituire. Partiamo dagli interni che diciamo sono stati tutti smontati, puliti e rimontati, quindi la pelle che vedremo, che vediamo nelle immagini è quella sua originale, pelle Connolly, la carrosseria è lucente, è ancora brillante e abbiamo verificato che in molte zone, anche critiche come cofano, fianchi, paraurti, zona anteriore, è ancora la vernice originale, quindi questo è un altro aspetto che rende particolarmente raro questo esemplare. La vettura, il proprietario ci ha permesso di provarla e quindi dopo un esame statico abbiamo fatto un esame dinamico, della quale risulta evidente la prontezza del motore, che è diciamo l'unica componente che è stata veramente riportata a nuovo, nel senso che sono state sostituite tutte le parti interne con pezzi nuovi, lì non hanno cercato di restaurare il vecchio ma hanno giustamente sostituito tutte le parti che possono usurarsi con componenti nuove. La vettura ha una frenata particolarmente potente perché bisogna ricordare che la Jaguar MK2 è stata la prima berlina a montare quattro freni a disco, che quindi garantivano uno spazio d'arresto da primato per l'epoca, ricordiamo, inizio anni 60, quindi il parco circolante era prevalentemente degli anni 50 e infatti questa vettura è dotata nel paraurti posteriore di un fregio circolare che ha la funzione di avvisare e di avvertire chi segue che questa vettura ha una particolare capacità di arresto, una grande forza frenante e anche questo fregio non è facile trovare ormai perché non vengono prodotti o riprodotti dalla casa madre e qui pochi rimasti sono sopravvissuti a tamponamenti, a danni anche solo da parcheggio perché come vediamo nell'immagine è in una posizione particolarmente esposta, quindi averlo su originale dimostra ancora di più la rarità della storia di questo veicolo. Quindi abbiamo detto la parte meccanica è stata riportata a nuovo, in questo caso non abbiamo proposto al proprietario un esame chimico degli oli motore che è un test che noi di autore possiamo fare per certificare o dare un punto zero per poi monitorare nel tempo quello che è il consumo dei componenti meccanici che ruotano all'interno del motore e ripeto in questa mk2 non è stato necessario in quanto la vettura non monta alcuna ventola supplementare e questo è una cartina di tornasole molto importante perché in italia il 90 per cento delle mk2 sia 3008 ma anche nelle motorizzazioni inferiori 3424 sono tipicamente dotate di una ventola supplementare davanti al radiatore che aumenta la portata d'aria. Questo è sempre stato giustificato dai meccanici e di conseguenza dai proprietari con la frase in italia è ben più caldo che in inghilterra. In realtà questo diciamo è un pensiero un po' ingenuo nel senso che gli ingegneri di Jaguar negli anni 50 e 60 ben conoscevano la destinazione dei loro prodotti e quindi non sottovalutavano i climi caldi. Quindi non avere la ventola significa, aggiuntiva, significa che la meccanica è realmente in condizioni ottimali quindi è in grado di stare in fila al sole in una giornata di estremo caldo come è stata quella della prova e mantenere la temperatura assolutamente inferiore agli 80 gradi 79-80 come massimo senza bisogno di aggiungere aria non di progetto diciamo così e questo è davvero diciamo la certificazione che il veicolo funziona nella maniera più ottimale. Ottimo, grazie mille delle tue considerazioni Gianluca. Io prima di congedarmi da te volevo ricordare ai nostri amici che possono contattare il team di Autore Expertise scrivendo via mail all'indirizzo info chiocciola autore expertise punto it e noi ovviamente ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima. Ciao, grazie. Ciao Gianluca. Bene ragazzi abbiamo fatto assieme a Gianluca un'analisi approfondita di questa Jaguar Mark 2 3 e 8. Prima di giungere alla valutazione finale della vettura però facciamo un excursus della quotazione di mercato di questa vettura negli ultimi 30 anni. Nel 1990 quando era ancora in vigore la lira un esemplare di Jaguar Mark 2 3 e 8 litri stava raggiungendo appena i 30 anni di età e poteva essere acquistato sul mercato per una cifra pari a 32 milioni di lire che possiamo convertire in 16.000 euro in prima approssimazione. Dal 1990 sino al 2005 le quotazioni della Jaguar Mark 2 3 e 8 sono cresciute con un trend di circa 500 euro annui. È proprio a partire dal 2005 che il trend di rivalutazione di questo modello è cresciuto o meglio più che raddoppiato e si è attestato fino ai giorni nostri sui 1200 euro annui. Oggi un esemplare in perfette condizioni può raggiungere o addirittura superare i 54.000 euro, quotazione a più di ruote classiche. Ma quindi dove si posizionerà il nostro esemplare come quotazione? Facciamo un riepilogo delle caratteristiche che abbiamo visto insieme. Per quanto riguarda gli esterni abbiamo riscontrato assieme a Gianluca uno stato di conservazione da encomio con una carrozzeria priva di alcun difetto ma soprattutto la presenza ancora oggi a distanza di 60 anni della prima vernice su una vasta parte della superficie esterna della vettura. Questo aspetto rappresenta un plus importante per l'esemplare a cui dobbiamo sommare un ulteriore sovrapprezzo seppur di entità minore per i fregi frontali. Consideriamo invece un lieve depreciamento per le targhe non coeve adottate in seguito alla reimmatricolazione italiana negli anni 90. Riguardo agli interni il soproluogo di Gianluca ha rilevato una condizione equiparabile alla quotazione di riferimento a più di ruote classiche. L'originalità degli interni è evidenziata dai segni di usura dei sedili anteriori a cui però non ci sentiamo di assegnare un depreciamento proprio in virtù della loro originalità. Un lieve depreciamento è da considerare per le pannellature interne soprattutto nell'area sotto al portaoggetti passeggero che mostrano segni di usura superficiale. Il proprietario dovrà inoltre considerare un semplice ed economico intervento di ripristino della filettatura del pomello cambio non allineato con la direzione degli innesti marcia. E infine arriviamo alla meccanica di cui non possiamo che constatare la eccellente condizione. Come sottolineato da Gianluca il comportamento in moto della vettura è brillante e privo di esitazioni. Sovrapprezzo da considerare per gli accessori presenti sull'esemplare come i cerchi a raggi cromati da 15 pollici e il servosterzo originale dell'epoca. Non possiamo non tener conto che l'esemplare è in possesso di certificato di identità ASI più comunemente detto targa oro che ne attesta la perfetta rispondenza alle caratteristiche di produzione Jaguar dell'epoca. Questo aspetto insieme alle considerazioni di poco fa portano la quotazione di questa Jaguar Mark 2 3 e 8 oltre alla quotazione a più di ruote classiche di 3400 euro. Bene ragazzi spero che il video di oggi sia stato interessante ma soprattutto utile per comprendere l'importanza della consulenza di un esperto di veicoli d'epoca quando si tratta di avere una valutazione della propria vettura o di una vettura che si vuole acquistare. Per qualsiasi cosa noi ci siamo potete scriverci all'indirizzo email carmodelicius at gmail.com. Ora non mi resta che lasciarvi con un po' di foto di queste due serie della Jaguar Mark 1 e Mark 2 nella storia. Ciao! 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 Grazie a tutti.